Buon pomeriggio, consueto orario delle 14.30 e siamo al 3 di luglio. Domani sarò nuovamente in Roma, ma quest'oggi sono ancora a Milano, la regione la conoscete, questa settimana non c'è aula, ci sarà soltanto una sessione di question time domani pomeriggio. Adesso si riuniscono alcune commissioni, tra cui la mia commissione e la commissione esteri, ma di fatto in aula non ci sono voti, la ragione la conoscete, il governo sostanzialmente non ha prodotto niente, anzi in realtà ha prodotto qualcosa ieri sera, ma a questo arriveremo, e quindi il Parlamento è così, a mezzo servizio. Ma comunque, notizie non mancano e quindi approfondiamo. Io, se al di là della strettissima attualità, vorrei in realtà partire da una cosa che non ha toccato moltissimo i giornali, ma che secondo me è importante da dire e da sottolineare. Riguarda lo sforzo mediatico di operare quella che in inglese si chiama Character Assassination, cioè il massacro pubblico della figura di Matteo Renzi. Io non amo correre in soccorso degli amici perché, soprattutto nel caso di Renzi, mi sembra che gli amici si difendano benissimo da sé, Matteo è una persona con le spalle larghe e quindi può farlo. Però mi pare che talvolta si superino veramente tutti i limiti e in questo caso credo che ci siamo assolutamente. Forse avete visto che ieri ha girato una immagine di queste, poi che tra l'altro si vedono chiaramente che sono tarocche, insomma, nella quale c'era questo signore che beveva un bicchiere di vino e si diceva questo è il fratello Gianni di Matteo Renzi che guadagna 53 mila euro al mese se sei indignato. Fai circolare e la cosa buffa è che questa pagina ha avuto tipo 40 mila condivisioni e quindi evidentemente ai miei occhi suonava falsa, però in realtà ha girato moltissimo. Quindi nonostante tutto c'è un attacco nei confronti della figura di Matteo Renzi, nonostante mi pare si sia piuttosto ritirato dalla scena pubblica e che abbia un ruolo molto defilato, però evidentemente preoccupa ancora molte persone perché altrimenti non si capirebbe perché su pagine che poi naturalmente sono vicine alla Lega appaiono immagini di questo genere. Quello che invece è più grave è stato, e avete letto sicuramente in questi giorni, la ricostruzione dell'acquisto della casa di Renzi. Ora, Renzi ha dovuto spiegarlo, ma a me già il fatto che debba spiegare il fatto che si compri casa mi sembra una roba fuori di zucca. Comunque la verità è che nei giorni scorsi anche i giornali importanti hanno pubblicato la notizia che Renzi avrebbe acquistato una casa, ma la cosa poi più, diciamo così, velenosa è che in fondo a tutti questi articoli c'era scritto, ah ma soltanto pochi mesi fa Renzi ha detto che aveva 15 mila euro sul conto. E così Renzi ha dovuto fare una cosa che secondo me, per un cittadino diciamo incensurato peraltro, perché su Renzi non ci sono avvisi di garanzia, cioè diciamo ci sono fior fior di politici che hanno procedimenti penali in corso, ma su Matteo Renzi non mi risulta che ci sia niente di questo genere. Renzi ha dovuto dire guardate io ho una casa a Pontassieve, intendo vendere la casa di Pontassieve, intendo acquistarne una a Firenze, la differenza tra il ricavato dell'una e il costo dell'altra lo coprirò con un mutuo, oggi faccio il senatore, quindi guadagno di più di quando facevo il presidente del consiglio, perché effettivamente i ministri non parlamentari guadagnano meno dei parlamentari e quindi mi posso permettere di fare un mutuo. Tra l'altro, essendo parlamentare potrò avere anche altri redditi, peraltro noi parlamentari abbiamo l'obbligo della massima trasparenza, lui dice quando avrò comprato casa lo leggerete nelle dichiarazioni che sono tenuto a fare al Parlamento. Però la verità è che nonostante, ripeto, in questa fase il Partito Democratico sia più concentrato, soprattutto sui suoi guai, e che Renzi sia defilato, mi pare che i giornali, la stampa, continuino a puntare il partito e in particolare il suo ex segretario Matteo Renzi in un modo che a me sembra comunque sporco. Mi sembra sporco perché è sempre un modo di fare che, come dire, suggerisce, no? Che non dice ma fa intendere, che insinua che ci sia sempre qualcosa che non va e quindi si procede al, ripeto, al massacro pubblico o tramite fake news, anche fatte molto alla buona, o tramite notizie di stampa che magari sono anche costruite bene ad attaccare una persona e francamente non si capisce perché. Per cui io da un lato voglio esprimere la mia solidarietà a Matteo, dall'altro voglio anche, in un certo senso da cittadino, esprimere un certo livello di indignazione, ecco se me lo consentite, perché mi pare che in questo momento ci siano cose molto più serie e molto più gravi da sottolineare e mi piacerebbe che la stampa, appunto, dopo essersi concentrata su di noi in modo così scientifico, in modo così chirurgico, si occupasse delle notevoli magagne, a me sembra, che ci sono in questo momento. Va bene. Una delle quali naturalmente è il nostro famoso decreto dignità, ma prima di entrare nel vivo voglio ricordarvi, perché me ne stavo dimenticando, di piggiare la freccetta per condividere la diretta e condividere anche il video che resterà registrato di questa diretta sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla mia pagina Facebook e anche su YouTube, quindi grazie, ecco. Decreto dignità, la montagna ha partorito il topolino, noi sappiamo che Lega 5 Stelle ci avevano detto che già dal primo Consiglio dei Ministri avrebbero eliminato la Fornero, avrebbero eliminato le accise sulla benzina, e invece siamo arrivati all'ottavo Consiglio dei Ministri per vedere qualcosa che veniva fuori, è venuto fuori questo decreto dignità, nome che già suscita particolari perplessità, perché che si restituisca ai cittadini o ai lavoratori dignità per decreto fa francamente ridere, comunque un decreto che era stato annunciato con grandi fanfare e che invece in realtà ha fatto poche cose e secondo me le ha fatte anche molto male. Le critiche, soprattutto dalle associazioni imprenditoriali, sono molto pesanti, io vi segnalo un'intervista di Bonometti, il presidente di Confindustria Lombardia, sulla stampa, che dice che questo governo di impresa sostanzialmente non parla mai, non se ne occupa, hanno... ecco, secondo me la strategia di Di Maio è una strategia un po' strana, perché lui sembra non avere mai la visione, diciamo, la visualizzazione completa dei problemi. Ne individua uno, ne individua una parte, pensa di risolvere quella parte lì, si butta pesce e non si rende conto che nella maggior parte dei casi non risolve il problema, ma poi ne crea degli altri, perché è stato come quando ha parlato dei rider, dice assumiamoli a tutti, tutti a tempo indeterminato, poi si è dovuto fare appunto una marcia indietro molto frettolosa, perché le aziende che assumono i rider hanno detto noi a queste condizioni lasciamo il paese e quindi si correva il rischio di lasciare i rider completamente senza lavoro e quindi adesso i rider non sono apparsi nel decreto di dignità, ma si parla di un contratto nazionale di lavoro per loro, quindi una cosa che andrà alle calende greche. Quello che il decreto di dignità fa però è irrigidire i contratti a tempo indeterminato, li irrigidisce anche in un modo un po' strano, perché poi davvero il rischio è che aumenti il lavoro nero o che diminuisca l'occupazione, perché è vero che il lavoro a tempo determinato non è il lavoro che vorremmo vedere, vorremmo vedere un lavoro più a tempo indeterminato, ma è vero anche che come dice oggi giustamente Pietro Ichino sul Corriere della Sera, non è che la dignità del lavoro dipenda soltanto dal fatto di essere un lavoro stabile. È importante che il lavoro sia reso degnitosamente, però al limite, dice Ichino, è la job propriety, quindi quando il lavoro è forse anche troppo stabile, come accade nella pubblica amministrazione, che anche il rendimento dei lavoratori è più scadente, il servizio al cliente è meno curato, per cui non si può essere così tranchant e pensare che tutto sia bianco o nero. Allora il tema dell'irrigidimento di questi rapporti a tempo determinato solleva delle perplessità, per esempio il fatto che si siano rintrodotte le causali e quindi si sia detto che il contratto a tempo determinato dopo i primi 12 mesi, se esteso per ulteriori 12 mesi, richieda una causale, sta facendo dire a molti che questo più di beneficiare i lavoratori beneficerà gli avvocati del lavoro, perché è molto probabile che sollevi un enorme contenzioso. Così come il fatto di aver abbreviato il tempo determinato da un massimo di 36 mesi a un massimo di 24, potrebbe causare appunto il fatto che in realtà che aumenti il lavoro nero, che aumenti la disoccupazione, soprattutto se andiamo a mettere questa norma in relazione con la norma che dice che se c'è un rapporto a tempo indeterminato che viene cessato senza giusta causa, l'indennizzo viene aumentato. Quindi da un lato si accorcia la possibilità di avere lavori a tempo determinato, ma dall'altro si scoraggia il lavoro a tempo indeterminato, perché se io aumento il costo del licenziamento è chiaro che scoraggio l'imprenditore dal trasformare quel rapporto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato. Quindi se ha senso ridurre i rapporti a tempo determinato per incoraggiare la conversione a tempo indeterminato, questa norma sicuramente non lo fa. Aumenta naturalmente anche il costo per il rinnovo e quindi anche questo è una forma che potrebbe scoraggiare gli imprenditori da offrire rapporti di lavoro. Quindi in sostanza una cosa che non possiamo escludere è che questo irrigidimento e quindi questa introduzione di norme più rigide, anziché incoraggiare la trasformazione appunto a tempo indeterminato, possa aumentare la disoccupazione e quindi far calare quel trend che abbiamo visto con i dati del lista di ieri che ci diceva che la disoccupazione è scesa nel mese di maggio al 10,7%, che è il minimo dal 2012, e quindi che la cura possa essere peggiore del problema. Una cosa simile si è stabilita con la norma che prevede delle sanzioni per quelle imprese che acquisiscano delle incentivazioni per i loro investimenti e che poi decidano di delocalizzare, cosa che si applica anche ai contratti di sviluppo, cioè a quelle forme di incentivazione per le imprese a investire in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Perché il problema qual è? Che dovendo rinunciare alla possibilità di delocalizzare, quindi la possibilità di riorganizzare la propria azienda, le imprese decidano di rinunciare anche ad investire, cioè dicano se io corro il rischio prendendo degli incentivi di dover poi restituirli con gli interessi, quasi quasi, grazie mille, gli incentivi non li voglio. E quindi questo potrebbe, così come le norme sul tempo determinato potrebbero aumentare la disoccupazione, le norme sulle delocalizzazioni potrebbero aumentare, come dire, diminuire gli investimenti nel nostro paese. Tenete conto in particolare che se è giusto, diciamo così, colpire quelle aziende che delocalizzano per fare una forma di dumping sociale, come si dice, cioè per ridurre i costi nettamente, sarebbe ingiusto, per esempio, penalizzare quelle imprese che decidono di delocalizzare magari un pezzo della propria produzione, non per diminuire il costo del lavoro o per fare appunto dumping sociale, ma perché vogliono aggredire un mercato estero. Quindi pensate a un'impresa italiana che va bene, che magari esporta e che oggi esporta merce dall'Italia verso l'estero, potrebbe decidere di aprire un'unità produttiva in un altro paese, mettete in Cina, mettete in Russia, perché magari si vuole aggredire il mercato cinese e il mercato russo e quindi si vuole aggiungere un'unità produttiva. Allora qui si potrebbe avere il rischio, ancora una volta, di essere sanzionati e si sanzionerebbe un'azienda che francamente non lo merita. Quindi anche questa è una forma di irrigidimento che potrebbe causare più problemi di quanti ne risolva. Dal punto di vista delle tasse, anche qui si era parlato di spostare redditometro, spesometro, quant'altro. Anche qui non si è fatto niente, alla fine la norma che è venuta fuori riguarda lo split payment, quindi che era sostanzialmente l'idea che la pubblica amministrazione potesse prendere i versamenti IVA direttamente alla fonte e questo adesso, diciamo così, è stato eliminato soltanto per i professionisti. Anche qui lo split payment forse qualcuno dice può aver provocato dei problemi di cassa a qualche impresa, però la realtà è che è stata molto molto efficace per far fronte all'evasione dell'IVA e quindi il fatto di avere adesso sentato una certa parte della popolazione che comunque, della popolazione produttiva, della popolazione appunto delle imprese anche individuali o dei professionisti che ormai si erano già abituati a questo nuovo regime che aveva funzionato, non si capisce bene insomma se sia utile oppure no. Qui ho raccontato tutto questo per dire che si tratta di un provvedimento molto più piccolo di quanto fosse stato annunciato e che comunque introduce degli elementi di grande rigidità in tutto ciò che fa e appunto in un certo senso rischia di creare più problemi di quanti non ne volesse risolvere. Dico a conclusione di questo che Matteo Salvini mentre si discuteva in Consiglio dei Ministri questo famoso decreto non era in Consiglio dei Ministri ma era a Siena per il Palio di Siena per festeggiare la presa della città da parte appunto della destra. A me più che un festeggiamento sembra una forma di sottile e neanche troppo dissociazione da un provvedimento che probabilmente Salvini sa bene non essere importante e ben fatto come la propaganda governativa ci vuol far sembrare. Lasciatemi dire soltanto una cosa prima di chiudere. Voglio apprezzare le parole del Presidente della Repubblica contro il protezionismo che ha detto ieri a Roma. Sono delle parole importanti. Io penso, l'ho detto tante volte, che il protezionismo sia un grave problema per il nostro paese, che sia qualcosa che può ledere pesantemente le nostre imprese, soprattutto quelle che esportano e sappiamo che le esportazioni sono state veramente una colonna portante della nostra economia soprattutto negli anni della crisi. Quindi capisco che il Presidente della Repubblica, così attento ai destini della nazione, si preoccupi della potenziale guerra commerciale che a partire da Trump potrebbe, come dire, deflagrare in tutto il pianeta. Devo dire che anche il Ministro Tria, che oggi è stato in audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato, ha detto parole contro il protezionismo. Questo mi fa molto piacere. Tra l'altro è stata un'audizione, come al solito, molto prudente. Tria è uno che sembra voler guardare i conti pubblici con grande attenzione e quindi questo mi fa venire una grande curiosità per la legge di bilancio che dovrà essere messa in piedi, se queste sono le opinioni del Ministro dell'Economia. Devo dire che anche il Ministro Centinaio, come dico io, il Ministro dell'Agricoltura e del Turismo, cioè il Ministro dell'Agriturismo, ha detto parole contro i dazzi ma purtroppo continua a dire parole contro il CETA. Anche oggi c'è un'intervista nella quale dice soltanto 40 indicazioni geografiche italiane sono state riconosciute come tali, quindi per quali motivo io dovrei lasciare le altre indietro. Io ho spiegato al Ministro Centinaio che quelle 41 indicazioni geografiche tipiche che sono state riconosciute dal CETA rappresentano il 92% delle nostre esportazioni di prodotti di indicazione geografica tipica, quindi non riconoscere il CETA è vero che non premierebbe tra virgolette queste 41 indicazioni geografiche ma lascerebbe tutte le nostre indicazioni geografiche in una situazione di non riconoscimento e andrebbe a toccare, a penalizzare questo 92% di esportazioni che invece oggi avrebbero un grande vantaggio perché per esempio, lo racconto di tanto in tanto, senza il CETA noi non potremmo vendere il prosciutto di Parma chiamandolo Parma perché in Canada Parma è un marchio registrato da altri, quindi il CETA ci aiuterà con il grano padano, ci aiuterà con il parmigiano reggiano, con il gorgonzola, con il prosciutto di Parma, di San Daniele eccetera, con le principali indicazioni geografiche che rappresentano la gran massa delle nostre esportazioni e poi dobbiamo anche ricordare che il CETA non è soltanto un accordo agroalimentare ma copre tutte le nostre esportazioni verso il Canada e l'agroalimentare rappresenta più o meno il 10% di quello che noi vendiamo ai canadesi quindi non ratificare il CETA creerebbe un grande danno alla nostra economia, non solo quello agroalimentare che secondo me ne avrebbe un danno ma anche tutto quello che riguarda il farmaceutico, i macchinari, la meccanica, i beni di consumo, il tessile, le scarpe, quindi la moda e tutto quello che vendiamo in Canada e quindi questo secondo me rappresenta un modo di non difendere l'interesse nazionale e quindi ho chiesto al Ministro Centinaio di dirmi chi pagherà i danni portati alla nostra economia in assenza del CETA con il quale ricordo dall'entrata in vigore provvisoria nel settembre dell'anno scorso le nostre esportazioni verso il Canada sono aumentate dell'8%. Io mi fermo qui e mi scuso se la diretta di oggi è stata un pochino tecnica e quindi un pochino diciamo più meno leggera del solito ma purtroppo questo era quello che la cronaca di oggi portava alla nostra attenzione, io mi fermo qui, domani sono a Roma quindi non sono ancora in condizione precisamente di dirvi a che ora ci vedremo, credo che la mia commissione esteri si riunisca alle 15 quindi cercherò di essere online intorno alle 14 ma questo ve lo confermerò durante la tarda mattinata con un messaggio su Facebook. Nel ricordarvi, nel chiedervi di piggiare sulla freccetta e quindi di condividere questo video io vi saluto e vi do appuntamento domani questa volta come ho detto da Roma. Ciao! Ciao!